Silenzio è la prima pagina del nuovo capitolo del diario olfattivo che esplora la dimora dell'animo interiore, dell'animo umano. È un ode all'amore, a quello puro, quello vero, quello che ti investe e che ti travolge. La domanda che ha generato in me il desiderio di creare una fragranza ispirata all'amore è stata qual è il profumo dell'amore e la risposta che ho deciso di dare è l'amore al profumo del silenzio perché soltanto nel silenzio puoi contemplare la sua bellezza. È come svegliarsi nel cuore della notte di fianco al partner amato e nel silenzio della notte capire in quei brevi istanti quanto sia bello contemplare appunto l'amore. La piramide stessa di silenzio apre con una rosa bulgara speziata dalla noce moscata che simboleggia appunto con la sua spirale di petali il percorso di di due amanti. Cuore e fondo della composizione vivono di contrasti. Abbiamo un cuore estremamente amaro, un po' fumicato, con delle notte di betulla, di cuoio e legno di guaiaco. Il fondo invece è estremamente dolce grazie alla presenza dell'assoluta di vaniglia e dell'assoluta di benzoino. Silenzio rappresenta un cambio di direzione rispetto alle precedenti esperienze olfattive in quanto non c'è più spostamento fisico da luogo a luogo, il viaggio non è più appunto fisico ma diventa esplorazione dell'animo umano, quindi un viaggio introspettivo.